Ciao a tutti, sono David Dolcini, vengo da una famiglia che ha una lunga tradizione nel mondo del legno. Il tempo è un ingrediente fondamentale, pensare semplicemente che per incollare un pezzo di legno ci vogliono 24 ore. Quindi fare un processo del genere ci permette di respirare e quindi cambiare appunto la prospettiva sul progetto. Elizi è frutto di tanta ricerca, porta dentro il mondo del legno e anche un mondo del legno particolare perché appunto è il legno curvato al vapore. Gli steli seguono una traiettoria ma poi si dividono a un certo punto in modo organico e però sempre in armonia. Cioè la scelta progettuale ha sempre delle finalità che possono essere non soltanto estetiche. Progettare vuole anche dire riuscire a sfruttare al massimo una risorsa. Ci vuole un attimo a tagliare una tavola di legno, ci vogliono 50 anni per far crescere un albero di noce. Grazie. Grazie.